In occasione del 53esimo dell'insurrezione di Lhasa, la bandiera del Tibet è esposta dal 3 al 10 marzo nell'atrio del Palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino. L'esposizione, avvenuta alla presenza del Presidente e del Vicepresidente dell'Associazione per il Tibet e i Diritti Umani, Gian Piero Leo e Antonello Angeleri, e dell'Assessore Regionale alla Cultura, Michele Coppola, attua l'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale il 22 febbraio scorso. Il 9 e il 10 marzo l'Associazione è presente a Roma per partecipare in Campidoglio al convegno le regioni e le istituzioni locali italiane per il Tibet e, davanti all'ambasciata cinese, al Siting in ricordo dell'insurrezione di Lhasa.